L'altro problema è la manutenzione, ma tanto la vita del manutentore vale meno, voi direte come vale meno la vita del manutentore? Tutte le cose pericolose le fa lui, se le fa lui è magico, ma quella è manutenzione non c'è problema, lui sente l'odore, sente il rumore, riconosce dai passanti che è al sicuro, però ha messo la chiave che se entra nessuno gliela richiude, ma esistono i magneti per eludere le chiavi, se non ha messo i dispositivi anti-illusione, cosa fa il manutentore? Poi c'è l'incubo del remoto, i controlli in remoto è una cosa che sta esplodendo, per automatizzare tutto io ho una cabina di comando in un posto X da cui comando più linee, quella cabina di comando posso disabilitare delle macchine con una chiave, metto in tasca e vado a fare manutenzione, dovrei mettere anche un cartello, in alcune acciaierie vediamo che mettono anche cartelli, questo qua non lo toccare perché c'è la manutenzione, e se si dimentica? E se un altro passante di stato lo riattiva? Quello ha il rischio di rimanerci secco, dipende sempre di cosa parliamo, noi parliamo in generale generico per sensibilizzarvi, noi non vogliamo distribuire panico perché poi volete traslare questa cosa nella vostra realtà, però ci dovete aver pensato.